diretta buonasera buonasera come state spero che state tutti quanti bene e soprattutto spero che questa sera accorrerete in tantissimi a questa diretta perché vi farò vedere una cosa molto curiosa e molto interessante non so nemmeno se qualcuno di voi già conosce la tecnica di cui starò di cui vi farò vedere di cui vi parlerò poc'anzi e nel frattempo insomma che arrivano altre persone diciamo che se c'è qualcuno che inizia che ci vuole salutare vedo che è arrivata marcella marcella io ti devo dire che fai delle cose meravigliose con la porcellana fredda ma sei veramente strabrava veramente e se non conoscete i lavori di marcella vi invito ad andarla a vedere andare a vedere la sua la sua pagina non so nemmeno se l'hai tolta non so nemmeno adesso dove fai tutta la pubblicità probabilmente io ti vedo sulla tua sul tuo profilo perché fa dei fiori in porcellana fredda che sono sensazionali dunque salutata marcella che in questo momento è l'unica che vedo c'è qualcun altro palesatevi fatemi un saluto così capisco se ci siete e soprattutto chi siete e nel frattempo approfitto col dire che spero che arrivi quanto prima alda perché è l'artefice di questi live sul pittorico perché qualche la settimana scorsa fu una delle tante persone che mi iscrissero per dirmi di ricominciare i live sul sul nostro bella sul nella nostra community e mi fece vedere un'immagine ecco ebbene stasera parleremo proprio di quell'immagine mentre il live della settimana scorsa nel live abbiamo visto alcuni tipi di tessuti e alcun e abbiamo ho accennato alcuni tipi di tecniche per dipingere con la lana oggi sveleremo il famoso quesito e a questo punto io inizierei giro la videocamera e riprendo da dove eravamo rimasti allora io vi ponevo il quesito il quesito di vedere le differenze tra inizialmente tra questo tipo di non guardate le mie mani perché oggi ho fatto un corso dove dove abbiamo realizzato praticamente dei guantini con l'acqua e quindi tutto lo smalto è andato via allora dicevo vi ho fatto vedere questo lavoro e questo e vi ho chiesto quali erano le differenze poi vi ho aggiunto un terzo lavoro che era questo per cercare di depistarvi perché quando avete fatto le vostre considerazioni tutte molto interessanti avete tutte quante prima di tutto avete concordato tutto sul fatto che questo è un lavoro risu che risultava più nitido questo invece più sfumato diciamo che adesso anche a vederli così effettivamente questo qua sembra sfumato nel senso che sembra addirittura non messo a fuoco invece vi assicuro che la videocamera è messa a fuoco però è l'effetto che è totalmente diverso siccome poi avete detto che la differenza fra i due di questo effetto era dovuto al tessuto per questo io vi ho riproposto lo stesso lavoro sullo stesso tessuto iniziamo col dire che questo è il mio solito supporto in canapa grizza e questo è un feltro industriale quindi anche questo effetto industriale non è prefeltro e però l'effetto che si è ottenuto è praticamente diverso perché adesso ve lo svelo guardando il retro feltro pittorico su canapa grizza feltro pittorico su feltro industriale feltro pittorico su feltro industriale ma com'è possibile tutto questo semplice perché questo non è stato fatto con l'ago e se fosse stato fatto con l'ago il la fibra sarebbe ovviamente passata dalla dal fronte al retro cosa che è avvenuta anche il filtro industriale mentre invece qui non è avvenuto perché io non ho utilizzato l'ago questo tipo di tecnica è una tecnica molto molto interessante e molto particolare perché prevede sostanzialmente che si utilizza esclusivamente la lana e adesso vi farò vedere come in un altro modo cioè voi dovete proprio andare qui veramente a disegnare a dipingere però non usando la tecnica d'ago infatti molti dicevano che i colori erano meno brillanti infatti qualcuno ipotizzava anche che fossero diverse le lane no i fattori sono tutti e tre identici ho usato tranne i due supporti diversi qui ho usato la stessa identica lana e per lo più io uso sempre la cardata a velo quindi in entrambi i casi c'è sempre cardata a velo lana in tops qui in questo tipo di lavoro non ce n'è non c'è qua non c'è qua e non c'è nemmeno qua allora i pro e contro di questa tecnica questa tecnica la si usa per ottenere proprio degli effetti molto sfumati quindi a parità di disegno se voi volete ottenere una definizione puntuale precisa allora dovete utilizzare l'ago o facciamo mettiamo questo perché è lo stesso identico supporto se invece a voi piacciono i lavori molto evanescenti e sfumati allora un'altra tecnica potrebbe essere questa il l'unica l'unica cosa è che ovviamente questo tipo di lavoro è esclusivamente decorativo e pittorico perché mentre questo potete utilizzare questo tipo di lavoro lo potete utilizzare anche per su borse su accessori per indossare un capo d'abbigliamento eccetera eccetera questo no infatti io l'ho fatto su questo supporto ma normalmente voi potete paradossalmente farlo anche su un foglio di carta anzi perché non sa disegnare farlo su un foglio di carta è addirittura interessante molto più interessante perché vi andate a fare il contorno vi andate a disegnare con la penna il vostro disegno e vi andate a riempire gli spazi dopodiché che cosa si fa semplice questo lo si mette in cornice con un plexiglass e questi sono se girate un po in internet trovate tantissimi tantissimi lavori soprattutto russi fatti con questa tecnica non richiede acqua non richiede sapone non richiede ago vediamo adesso come funziona allora rimetto la il mio telefono ha deciso di andare in pausa da solo quindi rimetto la videocamera perfetto e vi mostro come si ottiene questo tipo di lavoro allora per rendere l'effetto ho scelto un disegno di un artista che a me piace moltissimo che è proprio evanescente e fumoso le ballerine di degà e l'ho scelto per il corpetto e per insomma tutto il il gonnellino estremamente sfumato ovviamente lo andrò a fare in piccolo la prima cosa in piccolo e lo farò sempre su un feltro industriale la prima prima cosa che vi serve è un paio di forbici sia grandi che piccole vanno anche bene quelle da anche queste altre vanno anche benissimo allora vi servirà poi io uso un ago per la lana ecco questo che ha la punta ritorta ma vanno benissimo anche un paio di pinzette poi vi servirà una ciotolina metto tutto questo qua e vi servirà un supporto molto liscio io utilizzo questo un un come si come potremmo dire un supporto questo viene usato per fare sembra alla dimensione di una tovaglietta e viene usata in genere per per i lavori di di cake design perché è estremamente lavabile e la pasta non si attacca allora andiamo per gradi avete il vostro dipinto ora dovete scegliere il i colori della lana io ho eliminato ovviamente questa parte qui quindi mi concentrerò esclusivamente sul sulla ballerina centrale su quella in primo piano e ho messo dell'arancione allora con questa parte qui lo sfondo io non andrò a fare tutte le sfumature perché voglio concentrarmi su questa parte qua sul vestito allora l'arancione per il per lo sfondo l'arancione e il giallo dopodiché abbiamo il nero i capelli e il contorno della ballerina il nero poi abbiamo il bianco ho scelto due tonalità eccolo qua bianco latte bianco panna e un color carne e questo praticamente mi servirà per fare la gamba il vestito le spalle il volto e queste parti qui e insieme a questo c'è anche del grigio grigio chiaro e grigio scuro l'incavo della schiena anche questa parte qui grigia questa parte qui è sfumata grigia questa è sfumata grigia quindi la prima cosa che voi dovete fare è osservare bene il disegno che avete di fronte e poi andiamo sulla gonna per la gonna ho scelto allora un blu notte un buio per questi contorni qui poi abbiamo un altro blu abbiamo due tonalità anzi tre come vedete ho prenderò sia lana sia lana in tops che cardate insomma non non è un problema laura benvenuta quindi immagino che le bimbe ti abbiano lasciato sono andate a dormire meno male mi fa piacere e poi abbiamo anche qui del bianco e del verde dove io ho scelto ho scelto due tonalità di verde verde un verde più acido un verde menta e anche qui del giallo vi ricordo che la cosa in assoluto più importante da fare quando si sceglie un si sceglie si riproduce si lavora con un pittorico è l'osservazione dei colori l'individuazione e l'uso della palette però magari di questo ne parleremo le prossime volte allora io ho preparato su un ho preparato su già una base su il su questo feltro industriale ho fatto già lo sfondo che come vi dicevo non ci interessa ho fatto i contorni della nostra ballerina i contorni neri come sono indicati qui e adesso andremo a procedere vediamo se riesco a lavorare ok allora la cosa divertente è praticamente il come andiamo a utilizzare i colori ci serve faremo prima il vestito andremo a fare il vestito e l'incarnato quindi abbiamo detto che ci servirà ci serviranno questi cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo immaginare dobbiamo immaginare immaginiamo di avere dei colori dobbiamo praticamente ridurli in pigmenti quindi iniziamo da questo bianco qua lo vado ad aprire a sfioccare il più possibile dopodiché con le forbici vado a tagliuzzare la mia lana riducendola in microparticelle in effetti quasi polverose questa è anche una tecnica una una modalità per i dipinti ad acqua che però richiedono una una attenzione maggiore di cui non parleremo stasera perché non ne parleremo anzi ne parleremo proprio visto che lavoriamo solamente con la tecnica a secco allora dovete cercare di come vedete diventa tutto tutto molto 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 polveroso vedete anche sulle forbici si è accumulata la fibra ripetiamo l'operazione con un po' di bianco spiù questo è il bianco latte e adesso facciamo il bianco panna mentre sto preparando la tavolozza se qualcuna ha qualche curiosità me la può fare visto che l'operazione non è estremamente impegnativa dal punto di vista mentale vi comunico che oggi non mangio pizza che in genere giovedì mangio sempre la pizza perché visto che mio marito va a fare Aikido torna siccome si fa tardi allora porta direttamente stasera no stasera è andata a fare Aikido ma ho già mangiato ecco qua diciamo che questo ce la tagliamo un altro poco perché il bianco è un bianco che servirà anche dopo qualcuna di voi conosceva già questa tecnica ci ha già lavorato o almeno l'aveva vista anche fare riprodurre cercate di fare fino all'ultima fibra vi devo dire che qui il ruolo della lana è importante perché una lana a fibra corta è molto più interessante che non una a fibra lunga perché resta pelosa questo qua il grigio ci serve per delle piccole sfumature per esempio una ottima per fare questo tipo di lavoro e il cap merinos certo lo sto un po perché è abbastanza è abbastanza costosa però per fare questo tipo di lavoro è veramente l'ideale alla buonasera buonasera paola anna è superato il tuo periodo depresso ti senti ancora calimero che non è in grado di fare niente ti riprenderai lunedì ti farò vedrai con la sfida di lunedì prossimo ti riprenderai mettiamo un poco di grigio scuro serena ci dice io ho visto dei video molto a riguardo ma non ci ho mai provato a parte che questa non la vedo una tecnica adatta a te tu che sei così precisa e netta però sarebbe una molto interessante per te provarci metterebbe a dura prova il tuo istinto di di perfezione e precisione per anno continuo il periodo buio per anno continuo il periodo buio ecco il bianco il bianco l'abbiamo messo mettiamo l'incarnato il il c'è nel senso che io in realtà quello lì è un po va più nel crema però il mio incarnato preferito è questo vedete come si polverizza tutto 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 noi dobbiamo ridurre la lana a polvere perché praticamente dopo e come avranno la stessa funzione dei pigmenti dei colori vi suggerisco caldamente di utilizzare un supporto liscio perché altrimenti non riuscite a recuperare perché altrimenti i micro le microfibre si attaccano al supporto e voi non riuscite a lavorare bene ecco qui la nostra palette ora cosa andiamo a fare mi accomodo quindi da questo momento in poi non leggerò più i vostri commenti e mi vado a vedere allora ora qua potete io lavoro di mani però potete anche lavorare di pinzetta come ho detto mi vado a fare questa parte qua della schiena quindi mi vado a prendere dei micro pezzetti me li vado a sistemare qua c'è un po' più di bianco quindi mi vado a sistemare del bianco una cosa fondamentale molto molto importante è che mentre prima cioè con i lavori normali si va a si lavora al contrario dell'acquerello ovvero si mettono gli scuri sotto e i chiari sopra qui invece potete permettervi il lusso di aggiungere le sfumature via via e lavorare come se fosse olio allora il una questa lago ricurvo serve proprio come vi dicevo per aiutarvi a fare delle righine io in questo caso sto facendo l'incavo della schiena poi vado a mettere qui ovviamente ho scelto un lavoro abbastanza stilizzato e poi ah il nero non l'abbiamo messo e poi mi vado a mettere questo del volto vi assicuro che è estremamente divertente perché quando andate a sistemare le vostre mettiamo un poco di quando andate a sistemare i colori veramente li potete mischiare e viene fuori qualcosa di molto 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 carino poi mettiamo questo che è un po più allora qua mettiamo questo qua color panna qua mettiamo il color carne non è necessaria la precisione però se avete delle linee da seguire come vedete non ricordo chi aveva detto che questo tipo di lavoro non si vedevano i buchini e di fatti non si vedono però potete rischiare di ottenere un effetto diverso mettiamo il bianco nel senso che per creare mentre con se usate la regola la tecnica ordinaria basta basta lavorare di velatura qui potrebbe essere che per ottenere la stessa tonalità dobbiate lavorare un po' di più infatti qualcuno mi diceva mi scriveva non sono gli stessi non sono gli stessi identici colori è perché ho dovuto lavorare di sovrapposizioni maggiori perché non si ottiene l'effetto brillante un po' meno brillante rispetto all'altra tecnica però più avete la lana polverosa fra virgolette più il lavoro sarà molto più semplice un'altra cosa che dovete andare a governare è la quantità di lana che trovate per esempio qui ce n'è un po' di meno rispetto ovviamente si andrà a lavorare come vi dicevo veramente per sommi capi allora dobbiamo inserire la coscietta perdonatemi adesso non riesco a vedere i vostri commenti li vedrò li leggerò dopo e vi risponderò questo in genere è un lavoro che a volte faccio con i bimbi però il disegno deve essere estremamente facile e ovviamente non non sfumato allora vediamo vediamo ok e poi andiamo a mettere il nero che non ho ancora messo allora mentre preparo il nero leggo qualche commento allora andiamo un po' al ritroso andiamo al ritroso e vediamo vediamo continua il periodo buio Alda dice io ho visto opere finite ma non come si fa scusatemi un secondo pronto no sono ancora in diretta ci vediamo fra poco ciao ciao scusatemi ma era il maritino che tornava allora Alda dice ho visto ma non opere finite ma la cosa mi incuriosisce ecco perché te l'avevo chiesto Alda questa è esattamente la tecnica che va utilizzata ecco qua ho preparato un po' di nero poi è arrivata nel frattempo Barbara divertente non si ma non si può per gli sfondi o le parti più no usare la lana in tops stendendola come quando certo se hai il se hai un lavoro molto più a parte che io non lo consiglio per lavori grandi perché la maggior parte dei lavori che tu avrai visto sono tutti lavori diciamo non più grandi di una quattro perché altrimenti richiederebbero veramente tanto tanto lavoro ma adesso io sto andando per ciuffettino però potete anche realizzare voi con i fiori potete tagliare con le forbici direttamente il petalo però di base c'è il fatto che la lana va utilizzata in quest'altro modo se volete poi ovviamente io dico sempre dipende dal vostro dal vostro gusto e dal vostro interesse perché se avete il uno stile vostro potete perfettamente adattarlo alla potete perfettamente adattarlo alla a quello che volete creare ok questi abbiamo messi un ciuffetto grigio così un ciuffetto grigio un ciuffettino bianco giusto per qualche rifless un ciuffettino bianco qua ok ora passiamo al corpettino di sotto aggiungiamo il corpettino aggiungiamo il nostro corpetto un lavoro molto di molta pazienza e adesso andiamo a fare il vestito di sotto il vestito di sotto la palette già l'ho preparata ed è questa ho preparato un blu un celeste un turchese due tonalità di verde e un pochino di giallo allora vado a mettere un po' di blu scuro qui qui dove c'è il corpetto io credo che rispetto a una tecnica è molto divertente però rispetto a una tecnica con l'ago secondo me è un po' più complessa perché richiede una manualità maggiore e un occhio maggiore per i colori ciò non toglie che uno può provare nero lo aggiungiamo dopo qua ci aggiungiamo qua ci aggiungiamo tutto questo blu qua che sta tutto qua questa è la parte dell'ombra mi sono abituata a mettere prima le ombre ecco mettiamo l'ombra qui poi abbiamo ora qua ci sono dei fili e possiamo anche utilizzare direttamente la lana in tops la cosa importante ovviamente è che la dovete la dovete lavorare perché la lana non deve essere cioè questo non ci deve essere questa parte qui quindi o la ripiegate potete anche lavorarla con un po' di acqua perché questo deve andare qua questo lo mettiamo qua e lo andate a tagliare questi ce li aggiungiamo dopo perché sono la parte la parte finale ora andiamo a comporre il vestito e quindi io aggiungo in maniera sparuta i miei pezzetti che essendo polverizzati si attaccheranno molto molto meglio vado a fare una base con questo celeste verde acqua marina come lo volete chiamare no verde acqua marina è più tiffany se è proprio verde un'acqua un celestino poi la cosa divertente è per esempio qua c'è una parte più scura con la pinzetta con la pinzetta o l'ago questo ve lo andate ad allargare per renderlo un po' più omogeneo potete anche mescolare tagliare come dico io i pezzi quindi prendete un po' di polvere e ve lo andate facendo attenzione a non farli cadere sul vostro disegno e ve li andate a tagliare e quindi otterrete automaticamente la vostra sfumatura ce ne andiamo a mettere tutta qui che è la parte più scura del disegno e poi ci mettiamo ora tutta questa parte qui invece è sfumata col verde quindi andiamo a prendere il nostro azzurro e ce lo andiamo a sfumare con il nostro verde se è poco qua per esempio una cosa che vi può assolutamente aiutare ma siamo proprio nell'area proprio pittura è la teoria del colore è un colorimetro ovvero aggiungendo percentuali specifiche di colori differenti voi riuscite ad ottenere delle sfumature differenti ma questo è per i paranoici come me e tutta questa parte qui invece ce l'andiamo a sistemare qui ci aggiungiamo un poco di azzurrino sopra azzurro 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 ci aggiungiamo possiamo mettere i due verdini qui andiamo a sfumare i due verdini e qua verde 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 e ci rimettiamo di nuovo l'azzurro sopra e qua e potete sbizzarrire con anche perché questo tipo di quadro si presta a questo tipo di lavoro pittorico che stiamo facendo e qua ci vuole anche del bianco andiamo a mettere qua un pochino di bianco un pochino di bianco un pochino in mezzo qua la sfumatura è anche col giallo quindi ci aggiungete del giallo in realtà ci voleva un giallo molto più mite ma io non ce l'avevo a portata di mano quindi ho preso questo qua che è decisamente più acceso allora la cosa mentre finisco la mia composizione però credo che abbiate perfettamente capito come si procede per fare un dipinto di questo tipo è che allora la maggior parte delle artiste prendono il dipinto e lo mettono sotto plexiglass invece io l'occhio quello che vi ho fatto vedere nel in questi due giorni l'ho prima stirato questo però significa che lo dovete lavorare su un supporto stirabile perché se invece lo mettete su un su un foglio di carta oddio pure sul foglio di carta se ci mettete il effettivamente scusatemi un panno sopra potrebbe pure andar bene però diciamo che non è necessario perché questo tipo di lavoro deve essere obbligatoriamente sistemato al chiuso deve essere coperto perché altrimenti a parte che prenderà molto molto molta molta più polvere ma poi tempo qualche mese e praticamente i colori schiariranno e poi potrebbe rovinarsi quindi questi devono essere messi sotto vetro quindi quando fate questo tipo di lavoro siccome stiamo parlando proprio di ancora di più di un dipinto molto molto di più però noi lavoriamo veramente per macchie il consiglio è sempre quello di allontanarsi fare una bella fotografia e guardare il dipinto da lontano e vedere cosa state combinando se l'effetto vi piace o meno ovviamente io ho lavorato su qua è venuto pure un orecchino ho lavorato su un dipinto abbastanza piccolo perché non avevo modo perché volevo farvi vedere almeno un pezzo finito ma siccome comunque sono dipinti che richiedono un po' di tempo potete anche lavorare su una cosa un po' più grande ma vi sconsiglio comunque di lavorare sulle grandissime dimensioni perché diventa veramente troppo troppo complicato e soprattutto non lavorate con la finestra aperta e poi poi quindi qua possiamo andare a sfumare un altro poco perché troppo eccessivo questo giallo sfumato 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 e come vi dicevo potete aggiungere dopo i filini quelli che sono filini li potete aggiungere dopo li potete aggiungere questo che sta qua questo che sta qua questo che avanza ce la mettiamo qua al centro e poi ci mettiamo la cinturina e più lavorate di piccolo più otterrete dei risultati interessanti ok orientativamente il nostro dipinto è fatto si qua ci manca un pezzetto andiamo se lo ammettere dicevo ci mancava ci manca la spalla ci manca il pezzo qua olè sembra una ballerina spagnola si questa parte qua deve essere definita ok però orientativamente spero di avervi raccontato come funziona ora vi ho detto grosso modo però in realtà ovviamente vi dovete continuare a guardare il vostro disegno perché non deve per esempio qui nel fare si è perso il braccio qui come vi dicevo la sfumatura nera è un po' troppo grande insomma questo poi ve lo dovete andare a vedere piano piano e a ricomporre il vostro disegno piano piano ok se avete delle domande da farmi nel frattempo posso rispondervi vediamo prendo il cellulare scusatemi lo giro e mi vado a guardare un pochino di domande allora Alda abbiamo salutato Giuseppe Avicoli viene a vedere Giuseppe sei venuto sei arrivato? eh Flavia dice che è divertente e rilassante parecchio ma non si può per gli sfondi Alda mi ha chiesto usare l'aran top stendendolo come quando si fa quella d'acqua e usare i pigmenti per piccole parti o dettagli ho detto di sì si può fare un Barbara mi chiede si può fare un fondo così e poi usare l'ago per fare più dettagli sì lo puoi fare però considera che questo lavoro è tutto il rilievo nel senso che la lana non è piatta quindi se tu usi l'ago dipende se lo vuoi fare per esempio se vuoi simulare un piumone dove ci sono alcune zone incavate potrebbe essere interessante se invece vuoi semplicemente creare il dettaglio potresti ottenere delle zone troppo nette rispetto a questo lavoro però io dico sempre che bisogna provarci e poi Serena invece chiede ma fare dei dipinti più piccoli è possibile? misure da cabochon Serena benvenuta nel club delle miniaturiste se ci riesci allora io le miniature le faccio e faccio i miei ciondoli sono quelli la i ciondoli floreali sono così piccoli però ti dico che io non uso questa per fare le le miniature miniature non uso questa ma uso l'ago però perché io non ne sono capace preferisco usare i dettagli se tu ci riesci ci farà tanto piacere poi vienicelo a raccontare Olivia invece dice ma le fibre così tagliuzzate rimangono praticamente attaccate da sole appoggiate sul centro industriale si si strano eh si te l'ho fatto vedere si restano appoggiate da sole però se adesso tu alzi il lavoro perciò dico non viene questo tipo di lavoro è utile per creare dei quadri che con sui quali deve andare a finirci un plexiglass eh messo così non va bene io l'altro l'ho stirato quello forse sei arrivata dopo Olivia non hai sentito la l'introduzione eh nella mia introduzione ho detto che questi tipi di lavori vengono messi su plexiglass e quindi possono essere fatti anche su un foglio di carta eh quello che ho fatto io l'occhio che vi ho fatto vedere che in realtà l'ho stirato altrimenti non non riuscivo a farvelo vedere però resta attaccato eh Elena ci manda un cuore e come si chiama questa tecnica? feltro pittorico feltro pittorico senza ago molto semplice ma solo io ho pensato che se mi venisse uno starnuto rovinerei in un secondo tutto lavoro no 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 Serena non ti preoccupare perché l'ho starnuto e vogliamo parlare dei gatti lasciamo perdere Carla è arrivata fra noi ciao Carla eh e ecco appunto è con i gatti già cenati sì perciò dico è un lavoro molto meticoloso ehm io lo vedo come una sorta come i puzzle che si inizia a lavorare dopodiché eh tu hai bisogno di lasciare sedimentare il lavoro quindi devi necessariamente trovare un posticino dove non ci siano colpi di vento folate ehm o che magari puoi proteggere potrebbe essere utile usare le gli ombrellini da pietanze quelle lì quelli che si aprono e li si mette sopra ehm sì Barbara non si fissa resta così perciò è un'altra è un'altra tipologia che ti permette effetti diversi di quell'effetto sfocato quello proprio di cui tu hai parlato e che ti è che avevi visto che avevi notato quando hai detto mi sembra molto sfocato è proprio per questo motivo perché le fibre non si ehm non si fissano ma restano estremamente evanescenti ma lavorando con le fibre tagliuzzate polverizzate comunque si compattano fra loro se ci spruzziamo sopra della lacca per fissare il tutto non cambia niente perché così non lo puoi tenere cioè puoi spruzzarla ma non lo puoi tenere lo devi per forza attaccare perché altrimenti ehm dopo di che cadrà tutto Alessandra ci ha raggiunto e e credo che le domande siano finite yes bene quindi se non ci sono altre domande io ehm vi lascerei ed è stato come al solito un piacere ehm stare con voi anche questa sera e ci vediamo la prossima settimana ci vediamo ehm prima di tutto sabato perché vi voglio raccontare di alcune novità all'interno della nostra community e e ci rivedremo la settimana prossima per un altro live e continueremo con il pittorico detta questa cosa non ci sono ancora non ci sono ulteriori domande ci vediamo sabato buonanotte a tutti e ciao ciao ciao